Buongiorno. Buongiorno. Bene. Buongiorno. Dove sta andando? In vacanza. Vacanza. Documenti per piacere. Documenti. Ma glielo devo dire eh. Che è successo? Come è successo? Lei viaggia senza paraorti. Ma che stiamo? Non ho capito. Lei sta viaggiando senza paraorti. Con lei incomincia a prendere gli estremi. Vabbè non è un grosso danno però dai prendi gli estremi. No. No. Venta euro costa. No. Guardate. Questa stava la roulotte con la famiglia. Ne avevo le bambine la roulotte. Come la roulotte? Oh Dio. Aspetta.